Ciao, ti voglio far vedere un effetto un po' particolare ho un borsellino con dentro 4 mini bacchette con sopra una pietra preziosa e poi un tubo di ottone con all'interno un'altra mini bacchetta 5 mini bacchette allora adesso io mi girerò, tu ne dovrai scegliere una, metterla dentro al tubicino chiudere il tutto e poi rimettere queste mini bacchette all'interno del borsellino e chiudere anche questo e tenertelo vicino a te in modo che io non ho alcun indizio sulla pietra che hai scelto, sulla mini bacchetta che hai scelto vai perfetto non ti voglio fare nessuna domanda, però hai scelto una bacchetta certo sicuramente non è quella blu, è vero? non è quella blu sicuramente non è neanche quella rossa non è neanche quella rossa e neanche quella verde quella verde... no, neanche sono rimaste due bacchette una gialla e una bianca, diciamo, un diamante dammi quella bianca perché qui dentro c'è quella gialla guardate